Ed è stato espulso dall'Italia un cittadino di 33 anni che tre mesi fa aveva aggredito senza motivo dei passanti in Viale Monza a Milano, tenendo in mano un corano e gridando Allah è grande. Poi era stato bloccato da alcuni agenti della polizia al termine di un consulto psichiatrico. Gli era stato riscontrato un monotematico orientamento di osterità verso l'Occidente, ora l'espulsione dal nostro paese.